what's up youtube eccomi pronto per un nuovo video oggi un altro progetto forse uno dei più semplici degli ultimi mesi ho realizzato questo scaffale ad ingasso per poter organizzare tutte le cose che ho nello shop e ho voluto utilizzare queste scatole di chea molto economiche vi metto il link sotto dove poterle acquistare costano 60 70 centesimi però comunque posso organizzare tutte le mie cose che non utilizzo di solito come potete intravedere ho voluto anche attaccare la mia vecchia insegna quella che avevo dedicato a mia moglie non abbiamo ancora trovato il posto sopra quindi per non farla prendere volvere ho deciso di montarla sullo scaffale per sovrastare tutto lo show ma volevo dirvi che questo video è in collaborazione con virt modif la sezione abbigliamento della grande azienda tedesca ma prima di andare avanti con la costruzione dello scaffale volevo ricordarvi che sotto trovate il pulsante di pepal per fare una donazione al canale come ha detto mattedì scorso c'è stata una grande risposta da parte vostra e infatti i nomi che hanno donato qualcosa per il canale sono morgan manuele roberto fi roberto foo matteo francesco antonio mario vincenzo giuseppe ezio massimo dante pasquale igor grazie ragazzi grazie veramente queste donazioni sono utilissime per comprare materiali sempre più costosi adesso andiamo avanti col progetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti volevo dirvi che questo video è sponsorizzato da modif la sezione abbigliamento di view modif propone sul mercato una vasta gamma di articoli di abbigliamento e accessori per il lavoro oggi è presente in italia francia spagna portogallo e germania ci sono degli angoli modif nei 110 punti vendita di view in giro per l'italia dove potete toccare per mano i loro prodotti i ragazzi mi hanno fatto provare alcuni dei loro capi di abbigliamento e posso dirvi che dopo averli indossati per più di due settimane sono una bomba sia come qualità che vestibilità sul loro sito è possibile navigare tra le categorie lavoro e tempo libero dove potete scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 4 umorali 5x4, in tutto ho speso 30€, più le varie scatole 70-80 centesimi, avrei in tutto questo restyling mi è costato una cinquantina di euro e questo anche grazie a voi ragazzi. E come sempre, un mi piace è gratuito, se avete qualche domanda da pormi nei commenti cercherò di rispondere a tutti e come sempre soprattutto iscrivetevi per avere contenuti di qualità. Ciao!